No, lo faccio io adesso. Ma? Ce l'hai là? Sì, non crede. Ma che hai alla roba? Sì. Che me le fanno le ditte. Hai venuto un primo. Ma ecco che fatti. Devi prendere male quelle come 1, 2, 3... Chiara! Vuoi vengono giure anche per ultimo? Se mi viene sbagliato, già. Sto giù. Sto giù. Sto giù. Oh, è vero, la Domina. Sì! Cosa vuoi fare? Matteo! Ecco il calaccio.